Ilenia Carrisi Novità shock, ecco dove si trova la figlia di Albano e Romina Arrivano delle importanti novità sul caso di Ilenia Carrisi, la figlia della storica coppia scomparsa nel 1994. Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di Ilenia Carrisi, la primogenita di Albano e Romina che ora dovrebbe avere 40 anni. La giovane è scomparsa nel nulla nel 1994 gettando nello sconforto assoluto i suoi genitori. A quanto pare la polizia di New Orleans ha delle importante novità sulla svolta della scomparsa di Ilenia. Naturalmente la storica coppia non ha cami dimenticato la figlia, ricordandola in diverse occasioni. Qualche settimana fa, infatti, Romina Power è rimasta particolarmente colpita quando Mara Venier a Domenica Inle ha mostrato uno scatto della Carrisi appena nata. Ilenia Carrisi Ilenia Carrisi, ecco dove si troverebbe la ragazza. In tutti questi anni sono state dette e scritte tantissime cose su Ilenia Carrisi. La verità ancora non è venuta a galla lasciando un velo di mistero su tutta la vicenda. E mentre Albano l'ha fatta dichiarare morta al tribunale di Brindisi, Romina non si è mai arresa facendo dei numerosi appelli in televisione e sui suoi profili social. Ma nelle ultime settimane si è fatta più insistente la testimonianza di un poliziotto del Dipartimento di New Orleans. A quanto pare le indagini su Ilenia non si sono mai chiuse e ora ci sono delle clamorose novità. Sembra che la primogenita di Albano e Romina sia viva e vegeta e si trova all'interno di un convento greco-ortodosso in Arizona. Per il momento, però, non è stato dimostrato nulla. In tutto questo i genitori della 40enne non dicono nulla a riguardo. In tutto questo i genitori della 40enne non dicono.